Terreni fabbricati, partecipazioni societarie, beni per oltre 40 milioni di euro, tutti appartenenti al pluripregiudicato Emanuele Greco, vicino, secondo le indagini della Guardia di Finanza, alla famiglia Gelese di Cosa Nostra, in particolare al clan Rinsivillo, operante fra Ragusa e Caltanissetta. La confisca di questo ingente patrimonio è stata disposta dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania, su proposta dei magistrati della Procura Etnea. Fra i beni confiscati, sette società e imprese individuali, tutte con sede nel ragusano, operanti nei settori dell'ortofrutte e degli imballaggi, e poi 18 fabbricati, fra abitazione e capannoni, 16 appezzamenti di terreno, sempre in provincia di Ragusa. Emanuele Greco risulta condannato in via definitiva per gravi reati, fra cui il sequestro di persone e distorsione. Arrestato nel 2019 nell'ambito dell'operazione a gosse trash, è stato rinviato a giudizio per associazione mafiosa. Parallelamente sono scattate le indagini patrimoniali. Secondo la Guardia di Finanza, a fronte di redditi risori denunciati da lui e dalla sua famiglia, Emanuele Greco aveva accumulato un patrimonio di decine di milioni, frutto di attività illecite.